Buonasera, buonasera a Michele. Buonasera, bene, bene, grazie. Vi siete ritrovati un paio di giorni fa, con questo caldo terribile di Milano e di ritorni. Vi chiedo come state, come trovate i suoi ragazzi, quanto siete carichi? Vi ho trovati bene, è normale anche che sia così dopo 30 giorni di vacanze, motivati sicuramente. Non siamo ancora il gruppo al completo, quindi aspettiamo la settimana prossima per esserlo, per poi cercare di fare un'ottima preparazione per questa stagione importante. Prima una bella tournée in America? Prima una bella tournée, sì, mi chiedo di molto di blasone, che ci aiuteranno a trovare la condizione migliore e quindi da affrontare nel miglior modo possibile. Visto che siamo all'interno di casa BMW, utilizzo un termine automobilistico e chiedendole a che velocità vuole far andare questo Milan per la stagione che ci aspetta. Anche guarda che i telefonini come sono alzati. Come il nostro partner BMW noi siamo molto attenti all'ambiente, quindi in questo momento stiamo ricaricando le batterie per partire in modo più veloce possibile ma per durare anche, quindi cerchiamo di essere, competitivi e cerchiamo di fare il meglio possibile. Grazie, buon lavoro. Ci risolviamo dopo per una piccola sorpresa.